Ultimi preparativi e poi via libera il Capodanno 2017, piazza della rinascita a Pescara e già pronta ad ospitare i big. Sul palco alle 23 in punto saliranno i Negrita, saranno loro a traghettare a Bruzzesi e non nel nuovo anno. Il 31 di dicembre saremo con voi, con voi pescaresi, e saremo in piazza Salotto, bella, bel nome, in piazza Salotto dalle 11 in poi, quindi festeggeremo l'anno nuovo assieme e se avete voglia di fare un po' di bordello, un po' di festa, noi saremo lì per voi. Ciao Pescara, a presto! I programmi per la serata sono già fatti, ognuno a modo suo ha organizzato l'ultima serata del 2016. Signori, stasera come si festeggia? Andiamo a cena dagli amici. Io vado con degli amici. Noi a casa con parenti. E poi? E poi a mezzanotte pensiamo di venire in centro. No, 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 con amici e parenti. E la piazza poi per la mezzanotte? E' difficile, siamo fuori, siamo fuori Pescara. Hotel, grande hotel laggiù a Montesimpa. Siamo bene, Pescara la sto vedendo per la prima volta, mi piace. Dove venite? Da Roma, che insagente! Noi festeggiamo tre amici in un albergo, tutta la grande, niente di particolare. Poi in piazza a vedere qualcosa, spettacolo? No, 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 troppo freddo. In piazza. E la cena? In piazza. Tutta la famiglia o amici? Amici e famiglia. Signori, dove si passa la mezzanotte? In un ristorante. Famiglia, amici? Amici. Quest'anno? Sì, qui vicino. E poi la festa in piazza? Non credo, quest'anno è più tranquilla, diciamo. Quest'anno speso di più o di meno dell'anno scorso. Siamo ospiti quest'anno, però va bene così, più in famiglia e più tranquilli. Noi siamo stranieri, veniamo della Francia. Questa sera dove si festeggia? A casa mia. Ha una casa qui? Sì, vicino, no a Pescara, ma vicino. Tranquilli per quello che riguarda la sicurezza? Sì, io sono tranquilla. Tanto è capodanno per tutti, andrà tutto bene. Buon anno. Grazie. Grazie. Diva la fonte. Cena tra amici, cenoni al ristorante e poi c'è chi attende il concerto, che secondo le previsioni farà registrare massima presenza, come le recensioni di TripAdvisor, che l'hanno inserito nella top ten dei migliori appuntamenti in piazza d'Italia. Noi andremo al ristorante La Mugnaia, ad Elice. E poi la piazza alla mezzanotte? Pensavamo di venire al concerto dei Negrita più tardi, se riuscivano. Quanti sarete stasera? Eh, una decina. La spesa è più o meno dell'anno scorso? Più, più forse. Sì, forse può darsi. In piazza Salotto. Noi non siamo di Pescara, però lo passiamo qua in centro. Da dove venite? Da Torino. E com'è che siete a Pescara? Dai parenti, cioè, per conto nostro, ma comunque in compagnia dei parenti, cari. Lo sapete stasera in piazza chi ci sarà? Sì, Negrita. Vi piacciono? Sì. Noi. 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 Grazie per la visione